Ciao amici di Italia Top Games, buon pomeriggio, è ancora mercoledì 12 aprile, video a sorpresa, inaspettato, perché? Perché Konami ha confermato ufficialmente un altro tassello dell'aggiornamento di domani, giovedì 13 aprile, in cui ci saranno un po' di cose nuove, noi speriamo ancora di più di quelle già annunciate. Comunque, annunciati il new player skill, Momentum Dribbling, è l'ora dello spettacolo, nuova abilità del giocatore dribbling, lanci in arrivo domani, quali giocatori speri di vedere? È lo showtime sostanzialmente, un nuovo pool diciamo con tre giocatori showtime, introducendo lo showtime con il nuovo abilità dribbling, Momentum Dribbling. Allora, qui è tutto quello ufficiale, ufficiosamente qualcuno ha individuato i tre giocatori, tra l'altro un grazie a Francesco che mi ha segnalato il tutto su Telegram, me lo stavo dimenticando, scusate, la memoria è quella che è, grazie Francesco per avermi segnalato per primo, è subito fatto il video non appena possibile. Eccolo qui, i tre giocatori che dovrebbero essere in versione showtime, dovrebbero essere Vinicius Junior, addirittura 100 punti, 99 per Marez, e 97, il giapponese Mitoma, di cui si sta parlando tantissimo anche in Football Manager, è stato aumentato tantissimo. Questi dovrebbero, sottolineo, dovrebbero essere i tre giocatori, non c'è nessuna ufficialità. Questo elemento invece è assolutamente ufficiale, domani arriveranno i new player skill con il Momentum Dribbling e tutte le altre cose dell'aggiornamento. Staremo a vedere quindi domani cosa succederà, oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, di cui abbiamo parlato stamattina, e a questo elemento. Approfitto per segnalarvi che, sia nella descrizione del video, che nel primo commento postato in alto, c'è la possibilità di iscriversi gratuitamente per 30 giorni ad Amazon Prime Video, che è il servizio che questa sera trasmetterà in diretta ed in esclusiva la partita dei quarti di finale di Champions tra Milan e Napoli. Se dovete fare la prova gratuita, e la fate tramite quel link, supportate Italia Talk Games in maniera gratuita, perché non vi costa nulla per questi 30 giorni, a noi ci supportate, e voi vi vedete la partita. Grazie per chi lo farà, grazie per chi magari ce l'ha già ma non ce l'ha su un device, o per un amico lo fa, tanto è gratuito, 30 giorni gratis. Va bene? D'accordo? Grazie per l'attenzione ragazzi, e a stasera con il campionato, alle 20, ho appena giocato le partite, gioie e dolori, vedrete voi stessi stasera, e poi domani mattina ci aggiorniamo per tutte le novità dell'aggiornamento. Ciao!